Ma fagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano! Se la merce lascia la proprietà ci rimettiamo il culo! Ehi, bastardo! Spera solo di piccarti subito una pallotta là in testa! Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre! Devi farlo sapere a tutti, cazzo! E' il mio scadetto! Sì! 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 Sì!